Le frecce tricolori sono nate grazie a lui, non ci fosse stato lui, forse non so quando sarebbero nate, è proprio il padre delle frecce tricolori. Un libro sul papà delle frecce tricolori, un volume presentato nel Salone dei Trecento di una platea non solo di cittadini e aviatori, ma soprattutto di appassionati della pattuglia acrobatica nazionale. Ha lottato per fare una pattuglia acrobatica professionale fatta di professionisti, piloti e specialisti che potessero rappresentare in maniera adeguata l'Italia, in Italia e all'estero e l'obiettivo è stato raggiunto e l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Una vita avventurosa quella del pilota Mario Squarcina, padovano, classe 1920, combatte nei cieli prima di Malta e poi della Libia. Mai abbattuto si ferì gravemente nell'atterraggio in pieno deserto a Sidi al Barrani durante l'imperversare del temuto Ghibli, tempesta di sabbia e vento che azzerra la visibilità. Ed è in covalescenza che viene trasferito a Campoformido dove molti anni dopo la guerra venne incaricato di fondare la pattuglia acrobatica nazionale. Squarcina è stato ovviamente, essendo il fondatore, il primo comandante delle frecce tricolori e lui che poi ha dato il nome alle frecce tricolori che ormai non si dice neanche più pattuglia acrobatica nazionale ma si dice le frecce tricolori e sono identificate così in Italia e all'estero. Mai il nominativo migliore fu scelto. Frecce tricolori che sono legate a Treviso per tanti piloti passati a Sant'Angelo e a Estrana come il colonnello Assenzio Gandoni. Io ho avuto la fortuna a Treviso di volare con Squarcina ma poi al mio gruppo, al centotresimo gruppo, c'erano diversi altri piloti che veramente mi hanno curato. Infatti quando sono andato alle frecce tricolori, col benestare di Squarcina e anche del colonnello Di Lollo, anche lui comandante delle frecce tricolori dopo Squarcina, diciamo che la posizione l'avevo già acquisita però dovevo affinare a fare le altre manovre acrobatiche tipo il ventaglio, il doppio tonno, l'apertura della bomba, l'incrocio e quant'altro. Ma Treviso è un po' città delle frecce anche perché il loro papà riposa qui a San Lazzaro. Questo evento organizzato qua a Treviso è proprio anche per rendere omaggio alla città di Treviso dove lui ha vissuto gli ultimi vent'anni e dove è deceduto il 23 luglio del 1998. Tra l'altro il rito funebre è stato fatto nella chiesetta del 51esimo stormo di Estrana. E quando si parla di piloti delle frecce non chiamateli mai Top Gun. Insomma siete i Top Gun italiani? No, no, Top Gun no, bisogna sempre stare molto con i piedi per terra perché un elemento essenziale è l'umiltà.